Altri 3 milioni e 600 mila euro di contributi regionali alle scuole siciliane di ogni ordine e grado. Lo ha comunicato la Regione Sicilia che ha emanato un nuovo bando. Si tratta di fondi che serviranno ad adeguare gli ambienti scolastici destinati ad accogliere gli studenti affinché possano essere garantite le norme di sicurezza anti-covid. A seguito di un controllo sui fondi residui ancora disponibili della dotazione finanziaria originaria da 18 milioni di euro, l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso per erogare somme necessarie all'adattamento e all'adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche ma anche alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti-covid, ad esempio sistemi di aerazione e filtraggio dell'aria. Le scuole statali di primo e secondo ciclo che non hanno già partecipato al precedente avviso potranno presentare richieste entro il 12 settembre inviando la via Pecca all'indirizzo ediliziascolastica.legalmail.it